Ciao, mi chiamo Ciro, ho sei anni, frequento la prima elementare. Pochi giorni fa ho perso la mia mamma, oggi è anche il suo compleanno. Io vivo con i miei nonni e i miei nonni mi dicono sempre che mia mamma è sempre vicino. Ciao, mi chiamo Ciro, ho dieci anni, il mio sogno nel cassetto è diventare un attore, ma i miei nonni non vogliono questo e sono molto arrabbiato. Loro vogliono che io gioco a calcio, ma a me non piace. Ciao, mi chiamo Ciro, ho sedici anni, gioco in una squadra professionistica di calcio. Dovrei essere felice, dovrei essere felice perché tutte le mie preghiere sono state sentite. Poco tempo fa sono stato scelto per un film di adolescenti, e i miei nonni come al solito non vogliono sapermi nulla di questa cosa. Ciao, mi chiamo Ciro, ho diciotto anni, finalmente sono diventato maggiorenne. Ho affrontato i miei nonni, gli ho fatto capire che non era quella la mia vita. La mia vita è un'altra. La mia vita è fare l'attore. Solo che ora mi ritrovo a mezza una strada, perché i nonni non hanno voluto accettare questo. Fa niente. Ciao, mi chiamo Ciro e ho vent'anni, vengo da Napoli, da un quartiere difficile di Napoli. Ora è difficile pure poter accettare le vizie vanno. Ma io sono diversa. Sapete perché sono diversa? Perché sono nato per fare l'attore. Capcomando un'altra. Grazie a tutti.